Tip 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 E ciao a tutti ragazzi io sono ShowerFuzz Oggi siamo tornati su GorillaTag Ma ho le mod e E posso entrare nell'online Quindi non sono bannato Infatti da come si può Ben vedere Si sono In una versione molto vecchia La versione dei dialoghi non c'era questo Il secret tunnel Quello lì che ti faceva sbloccare la competitive E vabbè E lì La leaderboard Eccola qua Solo che sono in una lobby pubblica Quindi si Cioè volevo dire privata privata E questo è un po' Uno showcase delle mod E boh basta Allora Intanto per prima cosa Posso tranquillamente Mettere Lovermonkey Che è questa che non so come Controllarla E tipo Oddio che figo Ma come Ah Ho capito E tipo E posso muovermi che figo Ok ho capito ma non ho capito Cioè ho capito ma allo stesso tempo non ho capito Quindi la disattiverò Quindi la disattiverò immediatamente La car mod Che è molto bella Se solo sapessi come funziona Eccola Che ci ho fatto anche uno short Ma che però vabbè Vabbè Se ci ho fatto uno short Se non l'avete visto andatelo a vedere Perché è bellerrimo Poi il teleportmonkey E vabbè Smonchissimo Anzi Se sapete come Funziona Join Join Ely Room Abil Non so che vuol dire Però Quindi Ok Se lo sapete Scrivetemelo sotto nei commenti La space monkey Molto ma molto bella Che tipo Piano 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 In poche parole fa tipo Cioè posso Anche diminuirlo Il livello di Potenza Eccola qua Questa Ah perché è scivolosa E tipo Ecco E perché è tipo Scivolosa E come in poche parole Tipo Come le mountains Tipo Il ghiaccio Si Fa quell'effetto lì più o meno E che è molto bello E che se io premo questo Specchio E posso fare questo Cioè se tipo Mi abbasso E poi vado su E poi tipo posso fare Questo Ovviamente Tipo io sto messo così Tipo Ok Sono arrivato sul tetto E Ok Oh mio dio Allora Proverò a fare qualche Proverò a tipo A scappare Come tipo Oh mio dio Vabbè Proverò a scappare Facendo finta che ci sia una lava Monkey Dietro di me E vedrò come Fungerà Se fungerà utile Avere le long arms Non so almeno Ecco In questo caso Mi avrà già preso Poi vabbè Se fai tipo così Tipo fai Oh Oh Niente No no Niente No regà Comunque I believe I can fly Troppo forte Aiuto Mi è arrivata una notifica Proprio sei Iron Man Ui 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 Oh Oh Ok Ho esploso malissimo Però dettagli La disattivo Perché poi Da un po' Da parecchio fastidio Ecco qua Se riesco magari Come molti avranno Sentito Spero che non mi Copyright Danno il video Sì Perché Mi sono sbunato qua Vabbè Questo è il cannone Comunque Ma che cazzo Aspetta Problema tecnico Risolvo subito Ok bene Mi siamo un po' Buggato tutto Però Come si può Pensalo capire Bene Sì Siamo Nella Fortezza Dei Tuomp Di Super Mario Ora Faccio vedere un po' Rapidamente Per non spoilerare Troppo Perché Forse ci volevo fare Un video Uno shorts Uno short Oppure addirittura Un video a parte Ma Dipende Dipende Ah e tra l'altro Se Se e quando Arriverò Se Sottolineare Il se Arriverò mai Ai 100 iscritti E magari Questo video Raggiungerà Un bel po' Di likes Tipo Lo decide Wolfie Lo scriverà Qua Wolfie Magari Più di 400 E lo scrivere 401 Che ti spio Ti vedo Non mi direi che No per fortuna Non cade Ma che Ma avete No vi prego Di Wolfie Fai un replay Tipo Per fortuna Non cade Ma che Ma avete No vi prego Di E No Che lui Vola Perché io L'ho finito Quel gioco Ma penso Chiunque Abbiamo avuto Una Due O tre DS E Tra l'altro L'ultima cosa E poi me ne vado Eh Sì No si può Appunto Sì Non farò Altri spoiler E me ne torno Via E direi di farvi Vedere qualche Altra mappa Super surf L'ho provata Mi è cresciuto Bene ragazzi Penso che il video Possa finire qui E raga Eccomi tornato Mi si era Mi era Crashato il gioco Ma piccoli Dettagli Problemi tecnici Dettagli Dettagliissimi E Siccome il mio pc Penso Vi Sore Sta per esplodere Quindi Direi di C'è qualcuno Hello Monkey E Io Con Le Non sono Una Privata Penso Penso che Con Monkey E Io E Super Mario E l'orologio E Monkey Chi saluta Ci vediamo Ad un prossimo video Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Commento Iscrivetevi Attivate la campanellina E Da Monkey E Ciao Super Mario Ehm Super Mario a parte Ci vediamo In un prossimo video Al prossimo video Quindi Minuto 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 Grazie a tutti.